Come sta la tua mano? Fa un po' male perché ho subito un calcio prima che la giocatrice tirasse e facesse gol, però l'arbitro non se ne è accorto e ha ritenuto che il fallo è avvenuto dopo il tiro, quindi ha segnato il gol e non ha dato il fallo. La tua prestazione è stata molto più che positiva e hai dato sicurezza alla retroguardia Granata? Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene tutte quante, abbiamo ottenuto il risultato, poi nel secondo abbiamo preso il primo gol che ci ha tagliato le gambe e ci siamo un po' demoralizzate. Settimana prossima contro la Torres un impegno sulla carta proibitivo? Sì, quella contro la Torres è una partita molto difficile, però noi daremo comunque il massimo. Grazie a tutti.